I pazienti con scompenso cardiaco, ma più in generale i pazienti con una cardiopatia cronica, trovano nelle case di comunità di SST, Settelaghi, Divariese, Arcisate, Laveno e Tradate un importante punto di riferimento. Riferimento è proprio la parola chiave. I cardiologi nelle case di comunità non si sostituiscono ai colleghi ospedalieri, anzi spesso sono gli stessi professionisti che operano sia in ospedale sia sul territorio e nelle case di comunità integrano e proseguono l'attività specialistica ospedaliera. Accolgono i pazienti fragili segnalati dagli ambulatori ospedalieri o in dimissione dai reparti di cardiologia e li accompagnano in tutto il percorso di cura che si svolge sul territorio, quindi più vicino a casa con l'obiettivo di promuovere e mantenere la stabilità del paziente. A segnalare i pazienti al cardiologo delle case di comunità sono anche gli infermieri di famiglia che spesso vengono attivati al momento della dimissione anche dagli altri reparti. Il paziente giunge quindi da noi per una valutazione completa con una visita, un elettrocardiogramma ed eventualmente un ecocardiogramma, in base alla quale si imposta un percorso con controlli a cadenza variabile in base alle necessità per cercare di raggiungere e mantenere delle condizioni cliniche stabili. Nella casa di comunità, accanto al cardiologo, operano anche altri specialisti che speriamo possano diventare sempre più numerosi, che sono alleati preziosi per una cura davvero completa dei pazienti che spesso richiedono un approccio multidisciplinare. Inoltre, possiamo a nostra volta attivare gli infermieri di famiglia che possono andare a domicilio, rilevare i parametri dei pazienti e le loro condizioni generali di salute per un periodo necessario e riferire gli eventuali necessità di controllo medico ravvicinato, così da intercettare precocemente eventuali segnali di instabilità del quadro clinico, garantendo interventi rapidi ed evitando, se possibile, accessi in pronto soccorso e ricoveri. La sanità sta attraversando una fase complessa e di profondo cambiamento. Abbiamo ancora molto da fare, ma il nostro obiettivo è realizzare una medicina di prossimità in grado di rispondere in modo completo ai bisogni di cura dei nostri pazienti.